Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indiecam Play Ita. Oggi siamo su Getsu Fumaden Undyne Moon. Spero di averlo pronunciato giusto, fornito da Konami, che ringrazio. Getsu Fumaden è un'IP vecchia in realtà, perché arriva dal 1986 e hanno ripreso, facendo un nuovo capitolo. È una sorta di hack and slash, si potrebbe identificare come un qualcosa di simile a un Dead Cells, ad esempio. È un log like. Lo proviamo insieme. Siamo, non lo so, una persona comune. Ormai ho preso il vizio di giocare col pad, quindi lo proviamo col pad, ma credo che questo sia un tipo di gioco che si abbini a questo sistema di controllo. Lo voglio provare insieme a voi perché così ne traremo le conclusioni insieme. Ora che il sigillo che teneva chiuso l'inferno è stato spezzato, il mondo potrebbe presto andare incontro alla propria fine. E questo è il Getsu Fumaden. Ancora non hai trovato mio fratello? Alcuni membri del clan sono andati a cercarlo, ma non sappiamo ancora dove si trova. Allora dovrò occuparmene in prima persona. E lei dice, il compito di guidare il clan è stato fidato a te. Sta a te a trovare un modo per affrontare questo cataclisma. Beh, grazie. Sì, me ne occupo subito. Stile così giapponese. Preparati. Vediamo. Ci sarà un sistema di potenziamento delle armi. Il gioco non costa poco perché costa 24,99, quindi lo analizziamo anche in base a quello. Iniziamo con la X, si attacca. Si può andare a vedere, è bella questa cosa delle armi. Ci fa vedere l'ombrello. Con RB acquisiamo, oppure tieni premuto per lo smantellamento. No, prendiamo l'ombrello. E con RB cambio l'arma. E posso attaccare con l'ombrello. O con la spada. Il pattern sembra essere diverso. Con RB apriamo, che è il nostro pulsante di... Uh... LT usa l'arma secondaria. Scusate, è l'arma LT. Beh, acquisisci. La acquisiamo. Devono sottostare i limiti di munizione e i tempi di ricarica. Quindi non possono essere usati in rapida successione. Godono tutti i veri effetti speciali. Attaccare da lontano. Va bene, proviamo con LT. Ah, ok. Ha dieci munizioni. Una volta finite, non so cosa succede. Salta. Salto doppio. Ah, ok. Abbiamo il doppio salto. Ok, fantastico. Apri. Furto di anime. Acquisire un anime a far aumentare il contatore di furto di anime. Usare il furto di anime fornirà miglioramenti in base al numero di anime usate. Tornando alla villa di Getsu. Le abilità migliorate verranno ripestinate. Ok. Puoi conservare solo 4 anime alla volta. Acquisendone una quinta riceverete 3 memorie d'anime. Il contatore di furto di anime tornerà a 1. Ah. Ok. Quando si migliorano le armi principali e secondare il confronto di anime verranno applicati i bonus di miglioramento basati sulle caratteristiche peculiari delle armi. Va bene. Vediamo se posso attaccare da qui. No, non posso. Ah, potenzia. Più potenza. Perché adesso... Ok, abbiamo potenziato. Vediamo se possiamo attaccare da qui. Sì, mira già in automatico. Si rotola con il tasto opposto, quello per colpire. Ci hanno fatto molto male. Schiva. Ok, infatti... Bella! L'attacco speciale con l'ombrello è veramente bello. Attraverso. Beh, l'ho disegnato bene. Ha un non so che di vecchio stile. Trasforma attacchi con combo. Cioè, scusa, se io faccio così... Beh, è pietrificato, quindi non ha senso. Ah, ok. Fa attacchi sempre diversi. Però, vabbè, andiamo avanti. È pietrificato. Vediamo un po' cosa è questo. Vai verso la villa. Tornare alla dimora di clan Getsu. L'avanzamento di tappa e l'equipaggiamento andranno persi, ma tutti gli oggetti saranno riportati indietro. Va bene. Andiamo a vedere. Perdiamo l'ombrello. Bene, bene, bene. Vediamo. Perché alla villa sono sempre gli hub che ci sono in ogni log like. Questa sembra essere una collezione che abbiamo preso alle spalle, ma non so cosa sia. Seleziona difficoltà. Ah. Ok. Per ciascuna di difficoltà vengono giunti in eventi diversi, fine di andare al gioco più avvincente. Le difficoltà sono sbloccate quando ottieni oggetti prova. Cerca una prova della tua forza e affronta nemici ancora più potenti. Ah, qua possiamo cambiare, ma ne abbiamo solo due. Ok. Qua. E' importante sapere quando riposarsi. Eh sì. Qua abbiamo l'ombre... La katana senza nome. Acquisisci. Ok. Vai verso il limbo cubo. Come scriviamo? Ok. La trama è abbastanza banale. Questa non è disponibile. Non abbiamo l'arco. Dovremmo recuperarlo. Questo fa molto male. Questi cosa sono? Dei checkpoint e sì, viaggi veloci. Scusate, ma... Ok. Col tasto start vediamo l'arma. L'inventario. Bello, un po' alla souls. I progressi che abbiamo fatto. Le impostazioni. E fine. Va bene. Andiamo avanti. Abbiamo i secondi e il livello di difficoltà che abbiamo scelto. Ma lo trovo comunque più pesante nel senso di combattimento e forse un po' più ragionato rispetto a Dead Cells. Ho intrapreso questo viaggio all'inferno. Per quanto la trama sia banale, ovviamente non ci mette di fronte a cose troppo complesse, l'inferno che si apre, insomma. Però sembra essere interessante perché comunque, soprattutto per gli appassionati di... La chiamo mitologia, ma non è il termine esatto. Ambientazione orientale. Questo può essere un bel titolo. Anche perché il combattimento non è fatto male. Cioè abbiamo usato un teletrasporto. Ma possiamo tornare indietro? Sì. Anche se... Non sarebbe male completare questa zona qui e vedere dove ci porta. Ah, un mercante. Aumenta grado arma. Vediamo. Aumentare il grado di attrezzatura. Aumentare il grado di attrezzatura costa memoria d'anime e monete. Ok. Posso aumentarlo. Sì. Però mi costa due anime. Che non ho. Ok, niente. Niente, usciamo. Questo era tutto qui. Era solo l'accesso al negozio. Ne ho solo una, me ne servono due. Quindi dovrei accumulare la seconda. E poi tentare di... Tornare qui e... Non sono messo proprio benissimo. Dovrei curarmi con LB. Ah, devo tenere premuto. La bevo. Ok. Apri. Aspè. L'ombrello antico. Voglio cambiarlo. Voglio provare l'ombrello antico. Con il doppio attacco. Qua non c'è nulla. Quindi direi che qui non c'è nulla da fare. Era solo il recupero dell'arma questo posto. Sonoro e carino. Io vorrei solo un'anima di nuovo. Cos'è questo? Acquisisci bracciale di mana dello sbagliamento. Ok. Quindi questo è LT. Interessante. Però consuma. Infatti vedete che adesso abbiamo TOT secondi in cui non possiamo più usarlo. Bellissimo. L'attacco che parte completamente da solo. Probabilmente ho fatto io una combo. Ammetto di non aver mai giocato il titolo il primo. Che era comunque 36 anni ormai. Ok. Allora. No. Ancora un'anima quindi non ha senso. Ok. Adesso ho preso la seconda. Quindi tecnicamente potrei pensare di fare il viaggio rapido e andare direi qui. Perché lì sotto c'era il portale. Credo. Beh fammi prendere la pozione curativa. Che ho consumato prima. Qua adesso tecnicamente potrei potenziarmi la spada. Beh o comprarmene una ma no. Voglio aumentare il grado dell'arma. Aumentiamo l'ombrello. A livello 1. E cavolo aumenta tanto eh. Perché per dire la katana fa... Eh sì. Sono 9 danni in più. Questo 73. Aumenterebbe di 7. 73 la katana fa 88. Fa più danno la katana della verità. Già di base. Però... Però... Ho il bello dell'ombrello che mi ha fatto di quegli attacchi strani. Aspettate un secondo che ho dimenticato che c'è un forziere qui. E non l'ho visto. Lo vedo proprio in basso a destra dalla mappa. Ho preso kunai. Ho preso un'altra arma. Ah posso lanciarli. Ne ho 4. Ok ho un'arma a distanza che mi sostituisce lo scudo. Ma qua non ci sono. No ci sono stato ma non c'era quel... Uh. Aspettate un po' cos'è questo. Catena arginita. Posso buttarne via uno. Fa 208 danni. Butto via la katana giustamente. Voglio vedere qua come funziona quest'arma qui. Perché... Adesso fatemela cambiare con RB. La catena. Vediamo che danno fa. È molto lenta. Però fa una sfranca di danni. Quindi mi sa che non proveremo neanche l'ombrello modificato. Vediamo se abbiamo modo di andare sotto. Sì. Così ripartiamo da lì. Qua sotto c'è un teschio. Quindi probabilmente c'è un nemico rilevato. Però è troppo lento. Adesso voglio fare danno così. No. Fatemelo ricambiare perché voglio tornare a fare danni. Via, 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 fuggì. Pare non fargli danno a loro. Vediamo se danno... Aia. Che mazzuolata mi ha dato. Il nemico lì sarebbe da spianare. Che poi è già danneggiato. Allora. Apriamo il forzierozzo. Sto diventando complicata la cosa qua. LB. Bevi la pozza. Grazie. Ok. Grazie. No. Qua c'era qualcosa da prendere. Schema tossico. Secondo schermo è creare un bracciale di mano necessario per sbloccare l'arma secondaria. Fatemelo prendere però. RB acquisisci. Ok. Ok. No. Io vorrei... L'arco lo prendo. e butto via questo. Che poi sono tutte armi a utilizzo limitato. infatti io vorrei con RT. Scusate ma... Sparare le frecce. ho finito le frecce. Per qualche secondo. Ok. Ottimo. questo qui continua a rompere le balle adesso. Ma è divertente. Divertente. non è originale. Non è originale. Quello lo sappiamo tutti. Ma... non è male. Apri. Grado 3. Fammi un po' capire. perchè... la... l'arma... un po'... Acquisisci. È grado 2. La sostituisco alla grado 3. Ok. Ottimo. Quindi ho una catena. Adesso che fa? Quanto danno? Fatemi un po' rivedere. 266 danni. Mannaggia. Fa un bel danno questa. Anche se in realtà... Dovrei usarla. Continuo a guardare... la disposizione di tasti. Perché... Non me la ricordo mai su cosa cambiare. Perché alla fine si usano tutti... Tutti i tasti del... del pad. E... 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 Qua sotto è chiuso. Non so da che parte si va. E di qua non si va. Perché qua poi è chiuso. C'è sotto il... E di qua. Devo vedere la mappa. Bisogna andare su. In alto. Salire. Salire. Si va da qualche parte. Anche questo si presta bene per... una live. e fa un bel danno. Solo che... L'ho avuto a colpi e l'abbiamo ucciso. Il problema è che dobbiamo gestirci bene gli attacchi. Che se comunque... Qua è chiuso. Non si può fare nient'altro. Però di là c'è un nemico. Con un colpo è andato. Siamo praticamente semi-immortali con questo. Attenzione perché qua c'è un'anima. Qua sopra diamo un'occhiata... Alla disposizione... Eeeh... Viaggio veloce. Eh ma non... Non ci manda a nessuna parte. Di qua non siamo stati. Ma qua non c'è niente. Abbiamo visto tutto ormai. Credo. Quindi bisognerebbe capire... Eh no... Vedete che c'è qualcosa... Anche qui. Sì. Bisogna andare giù... E poi salire. Sì. Andare giù di qua. E poi salire dall'altra. Di qua. Eh sì. C'è qualcosa che qua non abbiamo trascurato. Andando di qua. Ok. Questo è un altro viaggio. E questo... Vai verso cosa? Bello. Sembra l'inferno. Eccolo lì. Il boss. I boss sono sempre le mie nemesie. Nel senso che non me la cavo mai. Con i pugni che mi schiacciano verso il terreno. Mi ricorda un gioco... Ma non cazzo. Non mi ricordo che gioco è. Adesso è partita la musica. E' proprio da tipico gioco di questo tipo. Cavoli. Non mi ricordo il gioco dove c'era l'omino con i pugni. Che cercava di schiacciarmi. Mannaggia. Se poi voi che guardate ve lo ricordate. C'era questo boss enorme così. Che girava con i pugni. E cercava di schiacciarmi. E' un gioco, penso, vecchissimo. Che usavo... Giocavo anni e anni fa. La mano è quasi andata. Ok. Adesso senza mani. Adesso lo colpiamo al cuore. Al cuore, Ramon. Non dirmi che ho già abbattuto il boss. No. No. Ok. Bevi. Puoi bere? No. Non hai niente da bere. Vabbè. Cerchiamo di abbattergli il pugno. Eccolo lì. E' andato. Anche se il tuo corpo è distrutto. La tua anima e i tuoi ricordi continueranno a rincannarsi per tutta l'eternità. Bene. E siamo tornati qui. Nuovamente nella sala iniziale di qua. Non siamo andati prima. Ma vi dico che non è male, eh? Adesso io non sono solito comunque basarmi su recensioni che hanno dato altri. Ho visto dei voti nella media su questo gioco. Non intendo su stima, sulla stampa. Ma il discorso è quello. Dipende da cosa vi aspettate. Se vi piace il Giappone e vi piace Dead Cells, fate uno più uno e prendete questo. 24 non costa poco. Magari qualcosina meno ci potrebbe anche stare. Però se siete dei veri appassionati, secondo me il gioco non è male. Uh, adesso vi dà la lancia affilata a un mix di Dead Cells, Hades, Metroidvania... Forge armi e sbloccabilità. Possiamo usare i materiali perché ogni arma che troviamo la possiamo anche sbontare, cosa che non abbiamo fatto nella partita. E possiamo andare a craftare armi, ombrelli. Sempre armi principali, quindi pugnali. Tutte le armi principali sono. Anche i guanti antichi. Possiamo... Poi, vedete, c'è tutto l'albero di come livella l'arma. Gioco è senz'altro molto interessante perché poi abbiamo anche le armi secondarie, scusate. Divise di questi tipi. Anche le pistole. Moschetti. L'addestramento migliora le abilità, le sei abilità di base, ok? Quindi ci aumenta la vita, il movimento e quelle cose lì. Interessante. E poi c'è le arti... Ci sono le arti segrete. Moltissime abilità aggiuntive che vengono sbloccate con maestria. Queste abilità sbloccate hanno un effetto permanente. Interessante. Miglioramento necessario il numero di minerali dello spirito. Approfondisce, in giocati casi. Serve anche la pergamena all'armatura. Libro della maestria. Trovo lì per sbloccare le nuove abilità, ok. Ragazzi, questo era Getsu Fuma del Nandai Moon. 24,99 su Steam. Uscito a febbraio di quest'anno. Metà febbraio, il 17 forse. Ringrazio ancora Konami per l'occasione di aver potuto portare questo gioco. Di riceverlo comunque in anticipo. Purtroppo non ho avuto tempo prima di portarlo. Fatemi sapere che cosa ne pensate. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao. Grazie. Grazie.